In arrivo una nuova ondata di caldo. Temperature in salita per il weekend e tutta la regione sarà interessata dalle zone montane al litorale. Saranno temperature molto elevate soprattutto sulla Valle Peligna e nelle principali valli della nostra regione dove i valori massimi potranno raggiungere e addirittura superare i 36-38 gradi perché siamo interessati da una vasta area di alta pressione di matrice nordafricana in ulteriore rafforzamento nei prossimi giorni, in particolar modo nel fine settimana e quindi ciò favorirà non solo un aumento delle temperature ma anche dei tassi di umidità soprattutto lungo la fascia costiera dove è vero che farà meno caldo rispetto alle restanti zone ma comunque il caldo umido sarà decisamente meno sopportabile. Un innalzamento che si protrarrà fino alla prossima settimana. Alla base dei dati attuali la situazione non sembra destinata a cambiare neanche nel corso della prossima settimana. Il caldo continuerà ad insistere sulla nostra penisola e in particolar modo sulla nostra regione con l'unica segnalazione da fare che tra domani e dopodomani c'è la possibilità comunque di qualche temporale soprattutto sulle zone interne e montuose localmente anche di una certa consistenza. Poi nella giornata di giovedì complici le correnti favorevoli non si esclude qualche sconfinamento temporalesco sul settore orientale quindi sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico localmente anche sulle zone collinari ma sarà una situazione tipica proprio dell'estate questa dei temporali di calore che poi tenderanno ad attenuarsi soprattutto durante le ore serali e notturne.